e ciao a tutti ragazzi e benvenuti benvenuti carissimi benvenuti anzi ben ritornati su questo nuovo video benvenuti su cali ragazzi questa volta andremo a trattare un argomento veramente particolare e scopriamo insieme che c'è qualcosa di veramente molto molto interessante da sapere perché non ci sono virus sulle distribuzioni linux ma attenzione prima di fare tutto ciò per chi non l'avesse ancora fatto iscrivetevi al canale cliccate pollice in su e non vi dimenticate che è molto importante di condividere il più possibile questo video qualche settimana fa ho spiegato come installare con un video su cali linux un antivirus gratuito ed open source si chiamava se non sbaglio clam antivirus molto molto figo eh anzi vi faccio comparire adesso in alto a destra un link per chi l'avesse perso vada assolutamente assolutamente a vederlo perché veramente molto interessante comunque nei commenti del video molti di voi come me hanno detto ma a linux non occorre un antivirus e da questo mi sono chiesto perché perché ragioniamo così e anche io mi sono chiesto più di una volta ma perché i virus sono praticamente quasi inesistenti su linux in rete poi ho provato a cercare a informarmi e ci sono per la miseria dei villantatori che dicono cose assurde come linux è inattaccabile dai virus per la sua struttura robusta ma robusta di che e perché poi lo usano gli hacker e che vuol dire e allora tutte bugie le cose sono molto molto lontane dalla realtà ma adesso guardiamo in sé proprio i malware e virus sono sviluppati alla fine per infettare il maggior numero di macchine possibile la sostanza è proprio molto semplice più mi diffondo più soldi riesco a guadagnare perché questo perché in un gran numero di utenti c'è una buona possibilità di trovare sprovveduti con una password molto debole per intenderci 1 2 3 4 oppure abc oppure che abbocchino lasciatemi passare questo questa parola a qualche sistema di phishing praticamente quelle pagine web è il momento di cambiare la tua password inserisci utente nome utente e password inserisci track e invece viene dirottato da qualche altra parte e si fregano tutto oppure pensate anche un ransomware che non fa altro che prendere in ostaggio il vostro sistema per richiederne poi un vero e proprio riscatto economico alla fine un'estorsione noi a napoli siamo abituati vabbè però alla fine poi se paghi ti viene restituito il controllo della tua macchina e dei tuoi dati alla fine ragazzi se ci pensiamo bene tutti questi virus anche se sono e hanno metodi diversi hanno in comune una sola cosa infettare il più possibile computer perché significa possibilità effettive maggiori di fare soldi più infettati più soldi questa è l'equazione molto molto semplice detto questo ragazzi vi faccio vedere adesso dal sito statcounter.com qualcosa di veramente interessante ed eccoci qui ragazzi siamo su statcounter qui praticamente vediamo tutti i sistemi operativi desktop praticamente relativi a tutto il pianeta tutto il mondo quindi ragazzi veramente un qualcosa di molto molto interessante stiamo parlando dei sistemi windows questa questa insomma queste linee blu ci fanno capire che abbiamo praticamente il 62 per cento ok di vendite va bene poi ovviamente varia comunque nel tempo misurato da aprile del 2023 a oggi ad aprile del 2024 abbiamo che praticamente gli utilizzatori del sistema operativo windows sono ben il 72 per cento quindi capite bene che cosa significa la stramaggioranza delle persone utilizza windows andiamo a vedere qui poi alla fine osx il sistema di mac os no praticamente viene utilizzato al 14 73 per cento c'è un divario pazzesco tra windows e mac poi c'è una parte sconosciuta e linux attenzione ragazzi qui purtroppo non si vede sotto perché è rosso ma siamo qui stiamo praticamente al 3 virgola 88 per cento poi c'è il chrome operation system il 2 virgola 3 per cento per farvi capire ragazzi vuoi capire sviluppare a un programmatore che ha un po di così un minimo di intelligenza di furbizio che vuole neanche quello se vuole fare soldi non ti metti a sviluppare un ransomware un virus un malware dove l'utilizzatore mondiale di tutto basato sul pianeta tutto il mondo utilizza il 3 virgola 88 per cento cioè tu hai il 3 virgola 88 per cento di possibilità praticamente che poi non tutti riesce a infettare quindi hai magari se facciamo la metà praticamente hai il 2 per cento l'1 virgola 7 per cento di possibilità è una cosa è ovvio che ti vai a sviluppare un qualcosa per windows perché hai ben il 72 per cento facciamo un pochino in meno il 50 per cento di persone a livello mondiale c'è la possibilità di infettarsi il che non è assolutamente diverso ma andiamo a vedere questa cosa in italia perché puoi anche splittare questi ragionamenti per l'italia qui attenzione abbiamo ancora 78 per cento andiamo a aumentare in italia abbiamo usato moltissimo il sistema windows quindi tu vedendo queste statistiche è chiaro che sei portato a sviluppare se sei uno sviluppatore di virus qualcosa che sia assolutamente windows perché lo sappiamo bene il mercato va non dove ti piace qui non si parla di creare il sistema operativo più veloce più bello più interessante qui si tratta di fare soldi e quindi la risposta ce l'abbiamo tutti ed è questa praticamente windows per adesso almeno dal 2023 al 2024 ciò non cambia magari da domani saliremo al 99 per cento se si utilizzerà linux o qualcosa che verrà inventato però attualmente facciamo purtroppo i conti con questo che attualmente il sistema windows purtroppo è quello più utilizzato quindi se volete fare qualcosa se volete creare un virus o volete fare tanti altri ragionamenti di vendita è importante capire che attualmente windows è super utilizzato spero sinceramente che adesso ci sia fatta chiarezza perché veramente girano delle castronerie sono educato a chiamarle così incredibili in giro la verità è che attualmente le macchine linux sono in numero molto ma molto inferiore rispetto a quelle che usano i sistemi operativi di windows questa è la realtà qui quindi non si parla di efficienza non si parla di velocità di bellezza di sistemi interfacce friendly più semplici più qui si parla semplicemente di possibilità e statistiche spero di aver dato qualche buono spunto per ragionare su questa cosa con questo è veramente tutto vi saluto al prossimo video ciao ciao ragazzi